i delfini è la croce nostra su dieci volte che caliamo le redi otto volte ce le distrugge se non ci facessero danni e allora mangiano e mangiamo pure noi ma poi sono sicuramente degli animali molto intelligenti molto diciamo molto curiosi che tendono ad avvicinarsi agli attrezzi da pesca e quindi in qualche maniera vanno in conflitto life delphi è un progetto che mira a ridurre le interazioni fra pesca professionale e delfini questa è un'interazione che è negativa per entrambi gli attori del sistema abbiamo il delfino che si avvicina alla rete ruba il pesce al pescatore il pescatore non è per niente contento e il delfino si fa male io sono barbascura x e vi racconterò la storia di un progetto il cui scopo è mitigare il conflitto tra il delfino e le attività di pesca professionale